bravissimi l'ultima curva è finita bravi bravi sulla via Krupp bravissimi brava la seconda donna brava bravissima come sono bravi queste donne bravissima bravi 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 tutti mi faccio una passeggiata bellissimo posto ah vengono da qui ah se puoi scendere come avanti bravo bravo bravi bravi tutti bravi bravi che forti questi ragazzi tutti forti tutti bravi 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 bravissimi bravi bravi bravo bravo bravissimi bravi 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 ragazzi bravi 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 tutti bravi bravissima bravo bravo bravissima 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 bravo bravo sempre vai grande francesco vai bravissimo bravissima vai vai bravissima bravissima tutti bravi bravissima 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 siamo al nono chilometro un altro pochino bravo 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 come va? Grazie dai grandi bravissimi bravi bravi vai daniela vai vai grande daniela vai che francesco ti aspetta bravi 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 tutti bravi siete si fa il collo ma non si molla dai bravi bravi aspetta ma è vivo? è vivo è vivo vai genzano maraton vai anche a voi vai a tutti bravissimi bello bello vedi guardiamo un po il panorama ecco bellissimo guardiamo sulla destra prego poi guardate a me prego grandi bravissimi ragazzi è valsa la pena di scendere qua giù si si sempre stiamo a 9 guardate Grazie.